in questo video corso parleremo del magico mondo della yurveda la scienza della vita lunga e felice cercherò di farvi venire fame fame di sapere cosa dicevano testi che parlano a me oggi nonostante siano stati compilati più di 2000 anni fa fame di sapere cosa siano il mondo il cibo il carattere la mente la morte secondo la yurveda fame di sapere a quale grande gruppo apparteniamo sarò un creativo e attivo vata sarò un arguto e determinato pitta o sarò un paziente e radicato kafa lo scopriremo assieme durante un percorso che si svolgerà in diverse tappe parleremo dell'origine degli scopi e dei principi della yurveda parleremo dei tre dosha di vata di pitta e di kafa che sono le energie che regolano le funzioni le parti e gli aspetti di ogni essere umano compresi voi e vedrete quanta incredibile venire a sapere che non sono l'unico a sentire così ad avere proprio quella caratteristica lì ad avere proprio quel modo lì ma ce ne sono altri come me e al contempo essere io solo io unicamente e irripetibilmente io in questo modo